Ne approfitto a nome dei colleghi sindaci della Unione dei Comuni della Città Caudina, un grandissimo augurio di pace e serenità per questa Santa Pasqua a tutti, a tutte le famiglie, a tutti i cittadini, soprattutto a quelli che in questo momento vivono in una condizione di disagio e hanno problemi nelle proprie famiglie e nella propria comunità. Quindi a loro il pensiero del Presidente della Città Caudina, del sito di Montesaccio, ma come cittadino della Valle. Io mi sento un cittadino della Valle.